È l'oratorio villese di Villa di Serio, la squadra che si è giudicata il campionato provinciale della categoria giovanissimi a 7 del CSI. È stato bellissimo, emozionante, sono contento per tutta la gente che è venuta a vederci, sono contento per i ragazzi, per i dirigenti. La finale dell'oratorio villese si è disputata contro il Mozzo al campo dell'oratorio di Negrone di Scanzorosciate dove si sono svolte le premiazioni. Al campionato dei giovanissimi a 7 hanno partecipato 32 squadre da Bergamo e da tutta la provincia. Credo che oggi sia una festa soprattutto per chi ha vinto, ma credo che sia la festa di tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo campionato. Questa è una categoria oltretutto abbastanza difficile a 7 perché giocano soprattutto a 11, ma nelle ultime stagioni ha ripreso forte negli oratori questa attività e credo che oggi sia stata la dimostrazione, abbiamo visto una bella partita anche di livello tecnico.